Ripeto a tutti, stiamo uniti! Oggi è il tempo della responsabilità. Che il Signore sia con te. Ma non ho avvito modo! Rosse! Rosse! Rilassi! Le brigate rosse esistono e sono qui dentro e sono fuori e sono dappertutto. Fina si è uccido. Lascia stare. Io scrivo a voi, uomini delle Brigate Rosse, restituite alla libertà l'onorevole Alto Moro. Io voglio urlare! Voglio urlare! Papà è ancora vivo! Che cosa c'è di folle nel non voler morire? Noi! Che cosa c'è di più! E' ancora vivo! Che cosa c'è di dire, Che cosa c'è di più! Grazie.